Durante l'operazione Barbarossa, avviata nel giugno del 1941 con l'obiettivo di annientare l'armata rossa, i tedeschi inflissero pesanti perdite all'aviazione sovietica, catturando centinaia di piloti e minacciando una disfatta imminente. Nell'ottobre dello stesso anno, con le forze tedesche prossime a Mosca, una figura di grande determinazione e orgoglio salì le scale del Cremlino per incontrare personalmente Josef Stalin, Marina Raskova. Già celebre all'epoca in Occidente per il suo coraggio, Raskova aveva compiuto nel settembre 1938, insieme a Valentina Grisubdova e Polina Ospienko, un volo senza scalo da Mosca all'estremo oriente, lungo 5.947 chilometri, a una velocità media di 220 chilometri orari, ricevendo l'onorificenza di eroe dell'Unione Sovietica. Al cospetto di Stalin, Raskova propose con fermezza l'organizzazione di tre unità di aviazione composte esclusivamente da donne. Sebbene inizialmente scettico, forse spinto dalla disperazione di quel momento critico per il destino del paese, Stalin acconsentì alla formazione di tre reggimenti sotto il comando di Raskova. Due di essi sarebbero stati dedicati all'avvistamento e alla designazione dei bersagli. Il 586esimo reparto, caccia bombardieri, e il 587esimo, bombardieri in picchiata. Il terzo, il 588esimo, avrebbe operato nel bombardamento notturno, impiegando gli aerei Polikarpov. Alla notizia della formazione di questa nuova unità militare, molte volontarie provenienti da ogni angolo del paese, si presentarono, rappresentando una varietà incredibile di origini, culture e storie familiari. Alcune avevano perso familiari stretti come padri, fratelli o mariti, mentre altre sentivano il richiamo a difendere la capitale dall'invasore ormai alle porte. Fra di loro c'erano studentesse, operaie e artigiane. Come racconta la veterana superstite Olga Filipovna. Noi studentesse ci chiedevamo, a cosa servono adesso insegnanti, chimici, matematici o architetti? Adesso è tempo di combattere per la patria. Nessuno ci ha spinte. Eravamo tutte volontarie e entusiaste di fare la nostra parte. C'erano operaie, infermiere, cuoche. Solo alcune avevano qualche rudimento di pilotaggio da circoli velici sportivi. Nonostante lo scetticismo dei colleghi maschi, Marina Raskova selezionò 400 di queste donne volontarie per un addestramento estremamente intenso, 14 ore al giorno per sei mesi. Un periodo concentrato che copriva l'equivalente di tre anni di addestramento normale per i piloti da combattimento. Non dovevano solo imparare a pilotare, ma anche a eseguire compiti di meccanica per le riparazioni degli aerei in caso di guasti. Queste ragazze coraggiose affrontarono molte difficoltà. All'inizio furono oggetto di scherzi da parte dei colleghi maschi, che le equipaggiavano con indumenti maschili troppo grandi, come stivali giganteschi che le ragazze riempivano di stracci per poterli indossare. Ma la sfida più grande fu quando scoprirono che avrebbero pilotato i biplani Polikarpov per i bombardamenti notturni. Questi aerei, fatti di compensato e tela, non erano progettati per il combattimento, ma per scopi civili come il trasporto merci e l'irrigazione dei campi. Mancavano di strumentazione di navigazione e non potevano trasportare bombe per più di 100 kg. Inoltre erano aperti, esponendo i piloti al gelo delle alte quote. Ogni equipaggio dei velivoli comprendeva un pilota e un navigatore. Quest'ultimo era provvisto di una bussola, una carta geografica, un orologio e una pistola con due colpi, utilizzabile per il suicidio nel caso in cui la missione fosse fallita e i membri dell'equipaggio fossero caduti prigionieri del nemico. I Polikarpov erano privi di strumentazione militare avanzata, non disponevano di radio, radar o sistemi di puntamento e mancavano di dispositivi per la visione notturna. Inoltre, la loro costruzione con materiali leggeri li rendeva estremamente vulnerabili agli incendi. Quando colpiti, bruciavano rapidamente insieme all'equipaggio. Questo destino terribile colpì molte di loro, inclusa una delle più abili e coraggiose combattenti, Tania Makarova, che fu bruciata viva insieme alla sua copilota durante un combattimento notturno. Nonostante la loro fragilità, questi biplani di tela e legno riuscirono a mettere in difficoltà i moderni bombardieri della Luftwaffe, fra cui i temibili Messerschmitt, i primi aerei da caccia con motore a getto. Johannes Steinhof, asso della Luftwaffe, battezzò le aviatrici russe Nachthexen, streghe della notte. Nel suo rapporto ufficiale dopo una missione, scrisse «è incredibile che delle donne riescano a tormentarci con i loro vecchi biplani, non facendoci dormire per tante notti di seguito». Le streghe operavano in formazioni di tre aerei. Due fungevano da esche per attirare i fasci di luce dei proiettori tedeschi che perlustravano il cielo notturno, mentre la terza unità si dirigeva verso il bersaglio nell'oscurità, vorticosamente evitando le batterie antiaeree. Ogni notte compivano da 8 a 18 missioni, ritornando alla base per riarmarsi fra un'azione e l'altra. Il peso delle bombe le costringeva a volare a bassa quota, rendendole vulnerabili, motivo per cui preferivano operare di notte. «Mi ricordo che durante le pause dormivamo all'interno degli aerei», ricorda Olga Filipovna. «I nostri colleghi maschi tornavano in caserma, si rilassavano, si cambiavano e poi tornavano in azione alla chiamata. Noi eravamo già pronte sul campo, così da poter partire prima di loro. Gli uomini combattevano per dovere, obbedendo agli ordini. Noi, invece, desideravamo superarci. I nostri obiettivi erano i carri armati e i depositi di munizioni. I tedeschi ci temevano, non riuscivano ad abbatterci. Per questo ci chiamarono Streghe della Notte, un epiteto che accoglievamo con orgoglio. Dopo aver dimostrato coraggio e compiuto numerose missioni con successo, queste donne guadagnarono prestigio e nuovi incarichi all'interno della difesa sovietica. Alla fine della guerra, il 588esimo reggimento divenne l'unità da combattimento più decorato dell'aviazione militare, mentre le Streghe della Notte si erano trasformate in leggende per il loro contributo alla vittoria dell'Unione Sovietica. Il loro ultimo volo avvenne il 4 maggio 1945, quando si avvicinarono a soli 60 chilometri da Berlino. Tre giorni dopo, la Germania ufficialmente si arrese alla disfatta. Complessivamente, queste eroine avevano portato a termine 30.000 missioni, con una media di 800 per pilota. 32 di loro persero la vita in azione, mentre 89 ricevettero la più alta onorificenza prevista, il premio eroe dell'Unione Sovietica. La maggiore Marina Raskova, promotrice di questa straordinaria impresa, trovò la morte durante i giorni drammatici della battaglia di Stalingrado, il 4 gennaio 1943, precipitando durante una tempesta di neve. Al termine della guerra, le aviatrici superstiti delle tre unità da combattimento aereo fecero ritorno alle loro vite civili nelle diverse repubbliche sovietiche di provenienza. Decisero di mantenere viva la memoria dei loro compagni e il legame che le univa. Per questo motivo, il 2 maggio di ogni anno, alle 12, si incontrano nel giardino del teatro Bolshoi. Questo appuntamento è diventato una tradizione che continua attraverso i figli e i nipoti delle indomite eroine, per onorare il coraggio e la dedizione delle loro madri e nonne.